Vigneti abbattuti dalla neve, ortaggi e agrumi distrutti dal gelo, ma serie isolate e senza elettricità per diverse ore. L'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l'intera Puglia in questi ultimi giorni ha colpito pesantemente anche il settore agricolo e adesso che freddo e neve sembrano aver concesso una breve tregua, comincia la conta dei danni. Un primo bilancio è quello fatto dalla sezione regionale della Confederazione Italiana Agricoltori che in una nota chiede ufficialmente lo stato di calamità alla luce degli ultimi eventi che hanno messo in ginocchio un comparto già in difficoltà. Significativa la foto scattata dai tecnici della CIA Puglia impegnati in questi giorni con i sopralluoghi nelle campagne della regione. Le temperature rigide, nonostante le nevicate non siano durate a lungo, non hanno consentito lo scioglimento del ghiaccio, imprigionando soprattutto le colture orticole. Ma nei campi le criticità non riguardano solamente le coltivazioni. Sono tanti infatti gli agricoltori che vivono nelle zone rurali più impervie ad essere rimasti senza luce e acqua, isolati a causa delle strade rese impraticabili dalla neve. Si uniscono all'appello della CIA anche Confagricoltura e col diretti Puglia che hanno tracciato una prima mappa del disastro provocato dal freddo e dalle intense precipitazioni che si sono verificate da nord a sud della regione. Tutte le colture e le produzioni risultano compromesse. Solo nella zona Cavallo fra Bari e Taranto risultano collassati ben 350 ettri di uva da tavola. Stessi problemi per il settore lattiero caseario con le aziende zootecniche della Murgia impossibilitate a causa dell'isolamento forzato a consegnare ai caseifici il latte che adesso verrà buttato. Non va meglio asserre vivai pesantemente danneggiati dalla neve. Particolarmente grave la situazione delle produzioni orticole con decine di campi di ortaggi colpiti dalle gelate. I danni per l'economia pugliese ammontano a diversi milioni di euro.